Musica Qui, proprio in questi minuti, si sta svolgendo un'operazione curata dalla Caritas. Abbiamo consegnato allo nostro ospedale di Caserta materiale monouso, dispositivi per la sicurezza, quindi guanti, mascherine, galzari e tante altre cose. Le altre iniziative Caritas-Caserta? La nostra casa di accoglienza Emmaus continua il suo servizio di accoglienza per le famiglie innanzitutto in difficoltà, in stato di disagio. Portiamo a casa la spesa, le medicine, ma anche per quelle che non sono in disagio. Sosteniamo le associazioni che qui alla stazione ferroviaria distribuiscono i passi. Abbiamo un gruppo di psicologi per le relazioni telefoniche, per quando vivono in malo modo l'isolamento. C'è un esercito qui con Don Antonello, l'esercito della Caritas, ma sono solo una rappresentanza dei tanti che stanno operando volontariamente. Grazie. Grazie. Grazie.